In Siria ha annunciato le sue dimissioni il procuratore generale di Hamah. In un video sulla rete ha spiegato di aver preso questa decisione in segno di protesta contro le repressioni del regime. A poche ore dall'annuncio, le forze di sicurezza hanno proceduto con nuove perquisizioni nelle case di vari quartieri della città, stando a fonti locali. Le ragioni delle mie dimissioni sono, in sintesi, uno, l'uccisione di 72 manifestanti e attivisti incarcerati nella principale prigione di Hamah domenica 31 luglio. Secondo, le fosse comuni da parte delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative nei giardini pubblici, con almeno 420 vittime. Organi di informazione statali hanno diffuso la notizia che il procuratore generale sarebbe stato rapito e costretto a fare la registrazione, ma in un altro video l'uomo nega di essere stato sequestrato, si dice sotto la protezione dei ribelli, e pronto a fornire maggiori dettagli una volta lasciata la Siria.